Scopo del servizio mercato è quello di favorire l'ottimizzazione dei rapporti dell'impresa con il mercato, sia dal punto di vista strategico e competitivo, sia dal punto di vista dell'adeguamento alle normative che regolano il mercato stesso. L'associazione organizza incontri periodici di aggiornamento e tramite su Lombarda Servizi può offrire una consulenza personalizzata sui temi relativi al marketing, agli approvvigionamenti e agli acquisti. L'associazione ha promosso il codice italiano pagamenti responsabili per la diffusione di pratiche corrette di pagamento, per cui viene fornita assistenza alle aziende sia ai fini dell'iscrizione al codice e sia ai fini del mantenimento dell'iscrizione stessa. Grazie per la visione!